Buonasera a tutti, benvenuti alla seconda puntata. Buonasera a tutti, eccoci tornati in onda e in diretta con The Rare Side, storie ai confini della rarità, il social talk di Osservatorio Malattie Rare che mira ad abbattere alcuni stereotipi e a creare un linguaggio e un immaginario nuovo intorno alle malattie rare, ma non intorno alle malattie, intorno alle persone perché sono le persone ad essere protagoniste delle puntate e questa è una puntata speciale, è una puntata realizzata in partnership con l'UILDM, l'Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare. Siamo qui insieme a loro e avremo fra poco un ospite che appartiene a questa importante associazione che ha sedi in tantissime città d'Italia, ma prima di andarlo a conoscere, la solita nota tecnica, la solita raccomandazione per voi che ci state seguendo su Facebook o su YouTube, scriveteci, commentate, mandateci dei messaggi tramite Messenger, commentate sotto a YouTube oppure scrivete al numero che vedete passare qui sotto, un messaggino su WhatsApp, il numero è 3757455334, passerà di nuovo, lo potrete prendere, scrivete anche in maniera anonima, non è un problema, fate domande al nostro protagonista di questa sera o fate le vostre considerazioni, perché questo è veramente un megafono aperto, non c'è qualcosa di predefinito, è uno spazio per poter parlare, prendere la parola ed essere protagonisti, quindi detto questo io direi di andare a conoscere il nostro ospite che è un poeta moderno potremmo dire, ma tanto altro ancora. Facciamo entrare Francesco Venturi. Buonasera. Ciao Francesco. Allora, piacere di averci qui stasera con noi, io parto a bomba da una cosa importante che tu hai fatto tra le varie, perché ne hai fatte diverse, ed è un libro, si chiama tutto su mia madre? No, quella è cinema, si chiama tutto su di me, ed è un libro di poesie, che stiamo vedendo qui la copertina, poi ci dici anche chi è che ha fatto questa copertina, perché è un libro particolare, ma ci racconti anche come è nata l'idea e perché un ragazzo, sei giovane, non ti chiedo l'età perché non si fa, però ha scelto la poesia che non è una cosa così comune. Innanzitutto la copertina, come dicevi tu, è importante perché racconta proprio la mia mentalità nei riguardi della malattia, ed è stata fatta appunto da Mauro Piani, che si vede anche la sua firma, cioè, che fa ad ogni vignetta che lui fa, ed è un vignettista che è il nostro, cioè un mio caro amico di, un caro amico di famiglia, e poi ha deciso, cioè, ho chiesto a lui di fare una vignetta perché lui riesce sempre attraverso delle immagini molto forti anche a raccontare quello che c'è dentro un libro, dentro appunto il discorso che la vignetta vuole andare a sviluppare. In realtà io ho scelto comunque la poesia perché io vedo attraverso la poesia un modo, diciamo, per sfocarsi da tutte le problematiche, da tutte le sensazioni di un ragazzo che comunque, come diceva anche prima Stefania Pedroni, cioè, dove siamo persone, quindi all'interno del libro ho voluto mettere tutto di me, ma non tutto di Francesco Venturi Duchenne, cioè, ho messo Francesco Venturi, quello che sono io, quindi, cioè, non la mia malattia, ma la mia persona. Infatti dalla copertina si capisce proprio questo, che io di realtà parlo dei miei problemi, delle mie sensazioni, però da un ragazzo di 22 anni, quindi un semplice ragazzo che cerca, insomma, di trovare un proprio spazio all'interno del mondo. Quindi ecco, io ho cercato, ho cercato di esprimere all'interno di questo libro tutto di me e appunto tutto di Francesco Venturi, quindi senza, cioè, parlare della malattia però senza farsi affossare da essa, quindi, quindi ho trovato la poesia a modo di spugarmi e sto cercando di sviluppare anche altre simbologie di scrittura, perché non mi posso soffermare solo su una, credo sia importante sperimentare. Bene, e dalla copertina si capisce chiaramente che è un racconto al di sopra della disabilità proprio al di sopra, fuori, con la poesia che mette le ali. Però io in alto a destra di quella copertina vedevo anche un'altra cosa, c'era scritta con la prefazione di una persona nota, Achille Lauro, lo stiamo vedendo qui e secondo me adesso questa foto te la stanno veramente invidiando, Francesco, tante persone. Ma com'è che conosce Achille Lauro? Da quanto? Com'è nata questa amicizia? Ma insomma non è che il Lauro così si mette a fare le prefazioni dei libri, eh? L'ho conosciuto nel 2016, ho fatto un concerto, io poi ho avuto la fortuna di fare una foto con lui e di conoscerlo anche fuori dal palco e io dopo la foto ho chiesto insomma alla gente se avesse un contatto, una mail o qualcosa, mentre Lauro ha risposto subito, ti do direttamente il mio numero e da quel momento ci siamo sentiti e l'altra amicizia è cresciuta sempre di più e quindi ecco poi arrivando vicino ai tempi del libro io ho chiesto a lui se avesse avesse insomma voglia di collaborare con me all'interno di questo libro e una cosa che mi ha colpito positivamente è che lui ha risposto di sì, non perché fosse mio amico ma perché appunto gli era piaciuto proprio il contenuto di quello che c'era all'interno del libro perché comunque lì all'interno del libro no ci mette la faccia come appunto persona ma anche come personaggio quindi in realtà è comunque mi ha colpito molto positivamente questa cosa che lui ha scelto di collaborare non per l'amicizia ma per altro poi poi lui comunque anche acquistato dei libri e li ha distribuiti ai ragazzi da willy m anche al centro clinico nemo e a power jockey quindi eccola anche distribuiti all'interno delle sezioni firmandoli e mandandoli si è proprio speso quindi vuol dire che ci credeva comunque pure te hai un buon orecchio per la musica perché nel 2016 Achille Lauro si era conosciuto ma non era famoso come adesso quindi avevi colto già il trend a quei tempi sarei già a concerto senti ma a parte questo poi torniamo a parlare delle tue passioni che non sono solamente la scrittura e la musica per cui ci azzecchi veramente bene ma c'è anche poi l'impegno nell'associazione nell'uildm in particolare tu sei nell'uildm di Ancona ma non è una cosa recente tu questa cosa la fai un po' da sempre è come se l'uildm fosse da sempre nella vita tua e della tua famiglia quindi mi racconti un po' l'incontro con loro guarda quanti siete l'incontro con loro e il rapporto adesso c'è anche la nuova arrivata che è il cagnolino il barboncino che si chiama Lady quindi sono tre alla fine i cagnolini no sono due sono due sono due sono arrivata è quella per quella piccoletta il barboncino e ecco l'incontro con la wildm in realtà è di un conto è stato con con un signore che aveva cioè che ha un figlio che si chiama se volete Giacomi che adesso il vice presidente della wildm per la sezione Ancona e e io ho visto cioè io e mio padre e la mia famiglia abbiamo visto ai tempi non c'era mia sorella ancora abbiamo visto che questo signore portava delle carrozzine no cioè ce n'aveva più di una quindi ce n'aveva due tre appresso e allora io che mi vale abbiamo chiesto scusi ma lei ha più di un figlio con una fotografia e lui ha risposto no no le sto portando in una palestra perché lì gioca nota in carrozzina allora io ero piccolo ero curioso perché comunque tra i tempi vivevo la malattia in modo diverso cioè sempre spaventato impaurito non sapevo cosa fare ero spesso triste mentre ho incontrato uno sport e poi subito dopo anche la wildm e quindi ecco sono cresciuto all'interno sia dei dorsi in Sancona che appunto la squadra in cui faccio parte e anche la wildm quindi io sono cresciuto anche cioè soprattutto come persona grazie a loro e quindi ecco come ho conosciuto la wildm che poi appunto come ha detto anche stefania precedentemente è una famiglia che ti accetta per come sei e fatti da sempre modo di esprimerti non ti blocca mai per quindi questo mi ha aiutato anche a conoscere francesco persona e non francesco distrofico ecco ma anche se comunque francesco distrofico deve per forza a vivere con me perché appunto non posso dire di non avere questa patologia anzi devo vivere con esso cercando di vedere meglio non sempre il buio come lo vedevo appunto precedentemente quando ero piccolo perché inizio della malattia non è così semplice ecco però però ecco ringrazio la wildm lo che è tutto perché mi hanno aiutato ma parliamo di ok fra c'è questo che in carrozzina elettrica vediamolo un attimo perché so che abbiamo delle foto perché non è una cosa di cui la vediamo tutti i giorni purtroppo ne parliamo tutti i giorni ma io so che te lo sport piace molto e non solo l'ok ma anche il calcio anche se non giochi a calcio ma lo segui e tifi per la magica da ancora di figlia la roma guarda seconde rossi quindi vai anche allo stadio o almeno ci andavi prima della pandemia da quello che vedo prima della parte è lo sport è importantissimo diciamo ecco per la roma ultimamente non è che mi sta facendo divertire gioia e dolori però ecco la roma è questo poi sono tifosi della roma perché i miei genitori mia padre mia madre sono nati a roma e poi ecco diciamo che non è solo quella proprio per una fede proprio che sento da da dentro quindi non è che mi hanno obbligato a tifare come magari succede no che una famiglia di milanisti e tu allora diventi milanista invece nel mio caso ma io sono romanista proprio perché è una cosa che viene da dentro poi si vede anche dai colori della mia camera che è come per arancione rosso già c'è notare e poi ecco lo sport è importantissimo parlando anche dell'ok nel mio caso soprattutto dell'ok anche se il calcio comunque nel mio caso come la musica sono altre due passioni che oltre a fa punta la scrittura che comunque portano anche gioia e un po si staccano anche dalla realtà perché comunque fa volte bisogna un po un po come si dice staccarsi da quello che in realtà un attimo per liberarsi da tutto quello che sono i problemi e poi ecco l'ok è in realtà è sempre stato uno sport che mi ha regalato gioia sin dall'inizio e poi ecco fortunatamente ripartiranno gli allenamenti quindi quindi ecco sono molto contento di questo era interrotto sì con la pandemia ci sono sospesi non solo gli allenamenti ma il campionato intero quindi è stato un duro colpo per i ragazzi ma anche per le persone più grandi perché comunque l'ok è per tutti non è che c'è un'età per entrare quindi l'ok è inclusivo è molto impossibile da questo punto di vista poi ecco c'è da dire anche che comunque lo sport no quando una pratica di non c'è la disabilità si mette da parte cioè quella è la cosa bella che dello sport viene praticato cioè non è che c'è la parte dei allenatori no per la cosa bella è quella che se vedono che se sbagli qualcosa fai movimento sbagliato di strilla c'è quella secondo me la cosa più bella di tutte perché tu ti senti dopo all'interno di una comunità di una famiglia che comunque ti dà i consigli e ti dice dove sbagli quello che è giusto quello che ha sbagliato immagino che nella squadra tu non sei abile o disabile o più o meno abili te al limite sei più o meno allenato si è così alla pari con gli altri assolutamente certo senti ma invece con questa pandemia purtroppo tutti quanti siamo stati messi in casa e siamo rimasti lì e soprattutto so che chi aveva una patologia pregressa è stato ancora più in casa un po per paura di questo virus che è stato soprattutto all'inizio così così spaventoso senti ma in casa tu sei con i tuoi genitori ma non solo io so che è anche una sorellina vediamola un po eccola qua abbastanza più piccola di te vero ma il rapporto come tutti i fratelli e sorelle fratelli fratelli sorelle e sorelle c'è rapporto d'amore e odio però ecco credo sia normale anche perché abbiamo nove anni differenza però ecco comunque c'è un rapporto molto bello quindi con i tuoi genitori invece come va come genitori c'è un bellissimo rapporto poi ecco sono fortunato perché comunque anche riguardo per il mio libro riguarda i miei sogni riguardo tutto quello che ho fatto nella mia vita mi hanno sempre sostenuto non è che mi hanno detto se continuare per forza di studi devi devi per forza fare un lavoro che che magari inizialmente non piace e non ti piacerà poi ti hanno fatto scegliere giusto è importante secondo me è questo che i genitori di amici e tutte le persone che attorno ti sostengano indipendentemente da quale sono le scelte poi ecco io non è che consiglio di non fare l'università o di non continuare gli studi dico solo che secondo me la cultura per una cosa che da quando hai le basi tra cui costruire anche studiando da da se c'è la cultura secondo me personale ognuno ha la sua quindi ecco io credo che non dico che ha sbagliato continuare gli studi ma non voglio manco che gli altri magari mi dicano che devo continuare a studiare perché se voglio fare lo scrittore serve uno studio diversitario cioè l'università è importante però è una scelta che va fatta nel momento in cui senti proprio il bisogno perché adesso come adesso poi non ne ho tanto il tempo perché sto lavorando anche a un secondo libro quindi anche il secondo libro beh allora appena esce però lo vogliamo sapere in aste prima e facciamo la presentazione perché le persone qua sono curiose del tuo libro mi è arrivata una domanda adesso te la faccio e la domanda è questa a quale poesia se più legato in questo libro che hai fatto e se ne hai mai dedicata una a qualcuno bellissima domanda bellissime domande la prima rispondo subito alla prima è che io quella in cui sono più legato era cioè sabbia perché l'ho scritta in realtà è pre molto prima del libro tipo nel 2018 una cosa simile in una data simile e non ho scritto insieme al mio amico che sta anche lui all'interno del libro che si chiama nicola pignatale che è il mio miglior amico e abbiamo scritto questa poesia che in realtà inizialmente era una canzone poi l'ho voluta mettere all'interno del libro perché descrive proprio benissimo anche quello che sono i sentimenti d'amore delusioni e le varie storie che ogni ragazzo ogni ragazza vive insomma quindi ho voluto descrivere quel sentimento che appunto l'amore che comunque è stupendo però come la sabbia appunto scappa di mano non è qualcosa che si può catturare o si può prendere è una cosa che che vibra nell'aria e non si può appunto prendere con le mani per quanto riguarda la seconda all'interno del libro ce ne sono due che ho dedicato anche di più però ecco me ne dico due punto che che sono una dedicata appunto a nicola che è subito dopo il suo racconto che sta all'interno del libro che si chiama fratello e poi un'altra dedicata ad una mia amica quindi ecco diciamo che non dedicate alcune nuove anche che ne sta all'interno del libro però ecco io credo che la poesia è bello perché bella perché ognuno poi ci vede in qualcosa quindi per quanto io la posso dedicare a una persona però in realtà è per tutti per questo il potere della poesia che dedicando a una sola persona tu puoi anche andare a colpire in modo positivo le persone quindi questa è una cosa secondo me l'importante che quando tu quando la maggior parte di quelli che hanno detto libro abbiamo detto che si capisce benissimo quello che che c'è scritto all'interno e anche le varie dediche però ognuno le sente sue quindi questa è una cosa secondo me che mi rende felice del lavoro che ho fatto senti tu ci hai parlato di un prossimo libro quindi progetti per il futuro ne hai già ma progetti per il futuro non saranno solo la scrittura perché io so che anche a te come anche a stefania piace viaggiare muoverti andare in vacanza che cosa che cosa in tasca per il futuro più o meno a breve oltre al libro per quanto riguarda i viaggi viaggi altri progetti che hai altri progetti oltre al libro e progetti appunto adesso con la mia famiglia in futuro nei prossimi mesi o il prossimo anno quando il covid darà pace un po tutta l'umanità vorremmo andare vorremmo andare o a londra o a amsterdam stiamo decidendo insomma piacciono i posti freddi in realtà no io sono molto credoroso però però ecco ci muoviamo spesso cioè quasi sempre nei periodi caldi poi ecco comunque amsterdam diciamo fa anche per una mia passione appunto che che è solo la scrittura ma l'arte per andare a vedere il museo di van gogh che è uno dei miei pittori preferiti che poi comunque altri su quadri come la testata stanno da altre parti però però ecco è importante secondo me anche dal punto di vista culturale artistico perché comunque c'è anche la casa di anna frank ci sono tante cose importanti secondo me che vanno visitate poi ecco in realtà sono una persona che è un po pantofolaia come persona mi piace anche stare a casa però ecco la cosa importante è tenersi attivi però quindi questo sia penso sia fondamentale poi per quanto riguarda altri progetti mi sembra abbastanza adesso appunto infatti devi continuare a giocare ok devi fare un altro libro e quindi devi anche studiare per farlo e devi andare a fare questi viaggi dire che non è male intanto dobbiamo uscire dalla pandemia però devi ricordarti anche che devi sentire tuo cugino perché ci scrive e non è una domanda ma vorrei solo dire che francesco mio cugino è il cugino migliore in assoluto unico e raro e ti voglia tanto bene immagino cugino ma forse anche la cugina e non lo so no la cucina cucina che tra l'altro abita sopra di me quindi ti sta seguendo da sua giù fantastico e voglio bene anch'io ma diciamo che il rapporto tra me e mio cugino e rapporto di fratellanza perché comunque per quanto ci vediamo poco perché poi appunto lavora il fidanzato come tutte le persone c'è i suoi impegni però ogni volta che ci vediamo si sente il legame di fratellanza perché comunque è cresciuto con me abitando sopra la casa mia e quindi quindi ecco è un rapporto di fratellanza tra me e lui ecco questo va bene fra abbiamo praticamente esaurito il tempo però io volevo farti anche un'altra domanda c'è tuo cugino ma io immagino che tu hai anche degli amici esci la sapere della pandemia parliamo come della vita che c'era prima è quella che ci auguriamo tornerà ad esserci gli amici il tuo rapporto con gli amici così chiudiamo con una cosa il mio rapporto con l'amicizia fortunatamente bellissimo perché ho tanti amici che mi vogliono bene che mi sono accanto e quindi sono felice di questo con gli amici ecco anche prima della pandemia e togliendo la pandemia come dicevi tu io l'inverno che è molto più complicato magari li vedevo a casa quando andavamo a cena fuori tra compleanni e varie cose insomma quindi ci vedevamo in questo modo per cercare di abbattere le barriere del freddo per quanto riguarda l'estate in realtà sono molto obiettivo di quello questo d'inverno perché appunto io da tanti anni in realtà quando sono appena nato vado in un campeggio nazionicalia e li ho tanti amici che che vedo ogni tre mesi ma anche altri che vedo tutto l'anno e quindi ecco nel campeggio poi prima della pandemia davamo lungomare andavamo un po una cena fuori dappertutto diciamo poi ecco stavamo anche all'interno del campeggio però però ecco la cosa bella appunto non è quello che fai e dove vai ma con chi sei e quindi ecco con i nostri amici del campeggio ma anche gli amici che non sono nel campeggio c'è un legame molto bello che comunque credo rimarrà nel tempo poi poi bisogna dire anche che dell'amicizia è bella perché non ci sono distinzioni tra persone fa anche lo stesso amore cioè l'amicizia perché io la vedo un po che secondo me l'amicizia è amore perché comunque tu doni un pezzo di te a un'altra persona quindi quindi ecco un'amicizia è secondo me la cosa più bella che che c'è perché rimane nonostante tutto c'è famiglia francesco per cora ti è arrivato anche un abbraccio da roma indovina chi è è veramente una grande famiglia dei venturi per connessa si diciamo che nonno materno perché nonno paterno purtroppo non non l'ho conosciuto però però ecco nonno è stato uno dei primi che mi ha sostenuto per il libro e insomma tutti i miei progetti nonostante la distanza ma sempre sopportato nonno cugino sorella genitori ul dm gli amici la squadra dell'ho che io direi che hai veramente un bel gruppo tutto intorno a te quindi dai manda un saluto a tutti così andiamo a chiudere tutto questo suolo di gente che intorno a te francesco e anche chi le laurea che dici ciao a tutti e ringrazio tutte le persone che hanno creduto a me e ti voglio bene ciao francesco noi ci sentiamo e allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata speciale dedicata alle storie dell'unione italiana lotta alla distrofia muscolare storie che sono state messe a disposizione per dei rartai dei storie ai confini della rarità questa è solamente la seconda puntata ne avremo altre sono tutto sei la prossima è il 22 febbraio alle ore 18 sempre sui nostri social quindi mi raccomando non mancate perché anche quelle saranno puntate interessanti scoppiettanti e con dei protagonisti molto differenti tra loro unici come unica è la vita di ogni persona e ringrazio la ferpi e l'alleanza malattierare per esserci vicino per fare un grandissimo lavoro di diffusione sui social ringrazio ovviamente la uil dm per questa puntata speciale e i nostri altri partner l'ospedale pediatrico bambino gesù di roma e il festival internazionale uno sguardo raro e chiaramente ringrazio nuovamente gli sponsor che ci consentono di essere qui per la seconda edizione quindi secondo anno di seguito di the air side e sono alexion alfa sigma amicus therapeutiche argenx chiesi global rare disease italia intercep ciova kirin novartis ptc terapeutic roche ucb e vita flow e naturalmente ringrazio tutti voi spettatori che siete stati qui fino a ora e tutti voi che avete anche commentato e resi ancora più interessanti queste testimonianze di vita vi do appuntamento al 22 ci vediamo presto ciao ciao